Cucinando con Chef Erio, ben trovato! Ciao Mary, Mary, mi hai fatto venire la paura, perché? All'improvviso. Allora ben trovato e buongiorno in questo spazio del Cucinando con M.D., c'è una somma di ingredienti, tutti un po' diversi tra loro. Sì, c'è un po' di primo, di secondo, frutta, c'è un po' di tutto. A diramare quella che è la tua volontà di oggi. Invece un secondo piatto semplicissimo e bellissimo, petto di pollo all'arancio. Petto di pollo all'arancio? Te l'aspettavi, te l'aspettavi, ingredienti semplicissimi, quindi arance, petto di pollo già preaffettato, misticanza per colorare il piatto, asparagi, alloro, farina, burro. Allora da dove si parte Chef? Certo petto di pollo all'arancia? Si parte, si parte, si parte, si parte dal burro, quindi usiamo la nostra noce di burro. Quindi petto di pollo all'arancia chissà che sapore avrà. Quindi semplicissimo Mary, non facciamo altro che fare lo stesso procedimento di una scaloppina al limone, al vino bianco, al marsala, come si suol dire, mentre in questo caso ne usiamo il succo d'arancia. Quindi è una sorta di scaloppina però con una variante un po' diversa. L'equilibrio del sapore è più acido, meno acido, più dolce? Molto più dolce invece. Aggiungiamo sia burro che olio in padella Mary. Perché ti piace quell'effetto croccante vero che ti restituisce un po' l'olio? Uno per ammorbidire il petto di pollo che risulta sempre un po' secco, quindi abbiamo aggiunto il burro. Mentre l'olio perché nella stessa padella gli andiamo ad aggiungere anche le cime di asparagi. Eh sì perché c'è anche riavviamento con gli asparagi. Esatto. Quindi prendiamo il nostro petto di pollo già preaffettato, già pronto, quindi non avete scuse. Prendi il petto di pollo, battilo, fare le fettine. Invece no, noi già le abbiamo pronte all'uso. Semplicissimo. Mary che fare? Non lo so, penso e presumo che bisogna infarinare. Andiamo a infarinare le nostre fettine di pollo. Sì. Le andiamo ad inserire in padella. Questo è un piatto davvero semplice, però ecco perché la scaloppina che si prepara quasi puntualmente in casa, però questa è una variante da conoscere, da assaggiare, che può sicuramente suscitare sorpresa per i nostri figli, ma soprattutto quella sorpresa gradevole in termini di sapore, per l'appunto, ecco un po' diversa. Poi vi invito ad assaggiare a questo abbinamento asparagi arance. Asparagi arance. Asparagi aranci. In questo caso usiamo asparagi già cotti, già scottati a vapore, quindi con dei congelati, congelati, noi abbiamo dei congelati. Ma in questo caso, se volete fare un asparagi all'arancio, usate gli asparagi freschi, tagliarli sottili come vi piacciono, connerli con sale, pepe, olio e una premuta d'arancio e poi mi chiamate e mi fate sapere cosa ne pensate. E sì, quindi fateci sapere anche contestualmente sulla nostra pagina di Facebook, perché siamo anche in diretta streaming, intanto se ancora non l'avete fatto, mettete un like sulla nostra pagina social di Facebook e seguiteci anche su Instagram, dove fra poco posteremo la ricetta del giorno nella nostra storia Instagram. Perché, Chef, più... Perché più ne siamo, meglio è, Mary. E dunque fateci sapere se questo abbinamento, arancia, asparagi, ma... Vi è piaciuto, bravo. Vi è piaciuto, Chef. Allora, Mary. Hai inserito anche la foglia di alloro? Una foglia di alloro. Perché? Per dargli una spinta in più. Sai, senti quel profumino di soffritto, di sfritto, ma non sai da dove arriva. È vero. È insieme all'arancio. È un abbinamento bello. Dai, lo devo replicare, perché le arance sicuramente ce le abbiamo e ce le ho anche io, perché puntualmente non può mancare la spremuta d'arancia e... E in questo caso, Mary, certo, facciamo un po' di sfritto, però usiamo solo le puntine degli asparagi. Gli altri che ne facciamo, li conserviamo e il giorno dopo presentiamo... Potremmo fare un risotto. Un risotto, una pasta con gli asparagi, come abbiamo già fatto in questi giorni. una cosa molto semplice. Come ben vedi, tre ingredienti, una padella. Non mi sto elaborando più di tanto. Quindi davvero un piatto molto semplice da replicare. Molto, molto semplice, Mary. Guarda, lasciamo cuocere ancora un altro poco. Però, come al solito, c'è quel tocco sul serio. Il pollo che noi vi regaliamo con ceferio. Aggiungiamo sale, un po' di pepe. Vedi? E a questo punto andiamo a premere la nostra arancia. In questo caso io ho scelto arance senza semi, vedi? Sì. Non ce ne sono. In tal caso usate un passino. Allora, tu dicevi che è proprio bella questa caratteristica, cioè il succo diretto dell'arancia. Può sembrare un abbinamento azzardadissimo con gli asparagi, ma invece vi assicuro che è di una squisitezza unica. E' un bello accorsamento. Quindi ci aiutiamo con la nostra misticanza, sempre pronta, vedi? Già pronta all'uso. La trovate in ATM, in atmosfera modificata. Quindi pronta all'uso. Le nostre caratine. Creiamo una torretta così. Quindi creiamo proprio una torretta di colori vivi. E una cena, una buona cena. Che vi consigliamo di preparare e di realizzare. Può essere anche un piatto elaborato da presentare agli amici quando arrivano a cena. Eh sì. Naturalmente la presofia di Ceferio, che ritroviamo puntualmente anche al suo ristorante, mangiando sul serio. Ceferio che voi sapete bene, conoscete bene perché Ceferio è nella nostra famiglia di Mattia Noe oramai da tempo. Per cui l'impiattamento ha anche il suo ulteriore valore aggiunto, il suo valore simbolico nella scelta degli ingredienti che si è scelti per l'appunto, scusate mi gioco di parole, per la presentazione del piatto. In questo caso l'arancia diventa protagonista in termini di sapore e quindi anche nel piatto deve essere vivido e presente. Esatto. All'interno. Proprio lo spicchio deve essere Ceferio, se mettiamo una pettina. A vivo, bello pulito. Così, bello pulito. Vabbè, la nostra regista Gioia De Gregorio ha ripreso Ceferio mentre formulava questa operazione. Quindi uguale, copiate. Andiamo ad arricchire la nostra insalatina e andiamo a richiamare anche il nostro profumo. Ad abbracciare questa misticanza che si racchiude nel sapore. In questo caso andiamo a condire il sale. L'olio ci sta bene, Chef, oppure noi in questo caso perché poi c'è il succo dell'arancia, quindi non ci vuole olio. No, 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 basta così e l'olio. Un po' d'olio. Ecco questo, chiedi io. Sì, l'insalata va condita. Poco a poco di olio ci vuole. Siamo pronti, quindi una ricetta esuberante, sfiziosa, fantasiosa, ma al contempo buona. Semplice da realizzare, però con un effetto diverso. Un effetto wow. Ecco, diciamo anche così. Wow. Wow. Che bel colore, guarda, Chef. Ehi. Bel colori. Gli mettiamo le nostre puntine di asparagi. Ma questo è un piatto ricco e nobile, Chef. Eh, sembrava con gli ingredienti. Ma che non hai detto che sei bravo? Con gli ingredienti che non uscisse un piatto del genere. Perché sembravano un po' separati fra loro. Infatti l'intensore ho detto, Chef, ma ha tutti questi ingredienti. E invece un connubio perfetto. Simpatico. Wow. È un piatto wow. Ci piace. È colorato, è vivo, è saporito, gustoso. Guarda com'è bello, guarda, Mary. Per nulla scontato. Ecco, quando dice il petto di polano, sembra scontato. È un piatto dato per scontato, invece non lo è. Mi stupirò. Stupiscici sempre, in realtà, tutte le volte. Noi ringraziamo Chef Fere in questo spazio di Cucinando con MD perché ci presenta tutte le volte delle ricette esplosive, sbalorditive, stupefacenti. Grazie, Chef. Non dormo, penso a voi e rileggi i miei piatti. Penso a voi e rileggi i miei piatti. Il Cucinando con MD, sempre allo stesso orario, tutti i giorni. Naturalmente ringraziamo. Grazie, Chef. Grazie, Mary. Un bacio a tutti. Complimenti sempre. E buon appetito. Grazie. Ciao, baci di Mary. Ciao, ciao.